Ma la Nutella signora, sai che ho cambiato? Perché ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano se posso scegliere e aiutare gli agricoltori italiani perché ce n'è bisogno. Totalmente all'opposto di quello che dichiara Salvini in merito alle nocciole utilizzate dalla Ferrero c'è il progetto che verrà portato avanti nella Valdichiana a Retina perché appunto la Ferrero ha scelto proprio questo territorio per produrre le nocciole che poi saranno utilizzate per il prodotto indubbiamente prelibato che è la Nutella un progetto che appunto darà indubbiamente una grande occasione agli agricoltori della Valdichiana a Retina. Tant'è che già noi abbiamo sotto contratto 100 ettari, l'obiettivo è quello di arrivare nei prossimi 5 anni almeno a 500 ettari quindi e da un punto di vista chimico e da un punto di vista climatico il nostro territorio risulta essere particolarmente vocato. Un progetto che parte sì dalla Valdichiana a Retina ma che si potrebbe allargare a tutta la Toscana. Ci rivolgiamo un po' a tutta la provincia di Arezzo e anche province limitrofe. Quello che ha sottoscritto l'Aquo Agria è un contratto che prevede la possibilità dei produttori di nocciole di conferire alla Ferrero fino al 2037 e questo contratto dà la possibilità appunto di avere un reddito certo in fondo all'anno per tutta la durata del contratto stesso.